Sono 1527 i positivi in città, stabili gli ingressi in ospedale, sono 87 pazienti guariti, sempre di meno rispetto al numero dei pazienti effetti giornalieri. Infatti sono 831 i pazienti positivi in quarantena domiciliare, 355 sono di Gela, 152 sono di Caltanissetta, 74 di Niscemi, 71 di San Cataldo e così suddivisi per tutti gli altri paesi della provincia. Rimangono stabili gli ingressi in terapia intensiva, sempre 8 diminuisce di un'unità, invece il numero dei pazienti in malattia infettiva da 68 a 67. Sono in tutto 8638 i pazienti positivi in quarantena domiciliare, la città con un maggior numero di positivi e sempre Gela, 4180 in quarantena domiciliare, 27 in malattie infettive ricoverati e 6 in terapia intensiva. Numeri alti anche per Niscemi sono 656 i positivi in quarantena domiciliare, 4 i ricoverati in malattie infettive e un paziente ricoverato invece in terapia intensiva.